Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, e inserite il codice creatore FORTU, così come vedete a schermo, e poi accettate, da ora, ogni acquisto che farete, mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortemer che parla, e benvenuti nel video del mesi in arena. Non so da quanto tempo me lo stavate chiedendo, praticamente ragazzi, il video in realtà è durato molto più di un mese, credo un buon mese e mezzo. Il tutto era iniziato dal video di una settimana in arena, in cui avevo chiesto 2000 like per il video del mese, e li abbiamo superati anche di molto. Sono felice quindi di darvi il benvenuto ragazzi nel mese in arena, vi chiedo ragazzi 3000 like per questa challenge epica che stiamo per affrontare insieme. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale, nel caso in cui non l'abbiate fatto, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video, e direi di andare in lobby. Ho iniziato oggi ragazzi a registrare questo video, che è tipo il 23 di marzo, perché c'è stato il reset dei punti in arena, come potete vedere. Quindi niente, voglio, vediamo quante ne prendo. Io ragazzi sono molto preoccupato, perché dato che c'è stato oggi il reset dei punti, io credo che ci siano tanti pro player che oggi stanno iniziando a giocare. Quindi io ve l'ho messo ora, con gente anche che di solito stava in arena dei campioni, e io di campione non c'ho manco il nome. Allora, andammo dai. Mamma mia raga, qua comunque si sta creando la follia pura, mi vengono a metà di brutto. Devo eliminarlo sto tipo se voglio andarmene. GG, prima è andata malissimo. Ok signorotti, diciamo che le cose stanno così. Probabilmente questa cosa andrà male, io le prenderò di santa ragione. Però finché questo non accade, cercheremo di resistere. Va bene, fermatevi un secondo grazie. Io credo ragazzi che di ogni partita vi caricherò solo o le parti migliori, oppure credo che io vi caricherò solo le partite migliori di ogni giorno. Perché altrimenti raga, un mese di video c'è, credo che finisca tra 3.000 giorni, come dire. Quindi ripeto, credo che vi caricherò solo le partite migliori. Questa mi è piaciuta, bravissimo. Però pure io sono bravo, sai. Ma che sta a fare? Bro, basta. Uuuuh, no, ma madonna, ma 15! Ce la faccio? Ok ce l'ho io. Sapevo che dall'alto sarebbe arrivato un nemico, però lui ha finito i proiettili nel caricatore, quindi ok. Wow, wow. Cioè riesco davvero a fare così schifo? Guardate che ci vuole abilità, eh. Dai, dai, ok. A posto. Finalmente, trovato anche lui, stanato. Dai frate, ti tengo puntato, esci. Vai, vai, vediamo dove vai ora. Dai che è una certa divisa lì per forza, frate, vai! Ti è andata male, brother. Mi conviene cominciare a muovermi da qui, eh. Ce l'ho? No! Madonna, non ce l'ho. No, ce l'ho tutti addosso io, ho finito i materiali. GG! A me mi è andata male. GG comunque, dai. Certo, è subito un'armar che sono circondato. Non so quanta gente c'è in giro. Ce n'è più di uno. Molto più di uno. Uno. Bello sto fucile a pompa, frate. Dai, mamma mia, fratelli. Inizio di fuoco, sta un altro inizio là. Questo me lo piglio. Non perdiamoci d'animo, non voglio fermarmi, raga. Voglio andare di prepotenza a sto game. Uh, ok. Quel tizio se n'era andato, sì, ma è comparso un altro. Godo. Posta. Anche se lo perdo sto game, ragazzi, non mi interessa. Voglio comunque giocarla, ripeto, al meglio delle mie capacità. Mi sto impuntando troppo sul voler vincere i game. Ne ho fatti diversi, eh. Mi sono andati tutti male proprio perché alla fine facevo poche kill e non avevo il coraggio di fightare. Ma ora non mi interessa. Perdo il game, ma almeno ho 5 kill ora. Cioè, faccio veramente così schifo. Ma posso mai essere così stupido, ragazzi? Stupito. Ah, fa il fuoco. Che fa? Si chiude? Ok. Ah, si è chiuso sotto. Perché ha così paura? Io non lo capisco. Anche staff di materiali, semplice. Va bene. Picconato? Mi spiace, bro. La nostra safe è lontano. Cominciamo a darci una mossa. Poverino. Fammi pigliare velocemente la sua roba. E' stato un piacere. Oh, si è curato. Sicuro? Per forza, vabbè. Easy. Che arco ci aveva? Primal? Qual è questo? Stink? Sì, vabbè. Ciao. Però quasi quasi lo stink, bro. Ma sì, dai. Il mio errore in questo è stato prendere quelle due cadute, ragazzi. Godo. Via. Cado per i materiali, però ce li rifacciamo, dai. Ok, sta uno a destra. Uno là e un altro là. Bro, guarda che ti ho visto comunque, eh. Eh. Ah, tu ho fatto lo sapere. Via. Devo subito alzarmi. Vabbè, rip, man. Vabbè, è andata male, dai, mi sa. Voglio eliminarlo col fucile a pompa, da lontano non mi va. Hello, ma... Vai, bro, vai. Troppa forte. Ok, è andata. 11 kill. Non è male. Oh mio Dio, dammi un'arma decente, ti prego. Grazie, molto gentile. E andare a trovare un'arma seria. Bella per te, bro. Mi è caduto un tizio davanti. Ciao. Ok, non farò domande. Com'è il mio ping? 50? Lo sentivo un po' più rallentato, infatti. Oh mio Dio. No, no, ping, devi salire, ti prego. No. Ok, andammo. Ma Dio santo. Oh, oh, eh. Ma, fra, certo che namira proprio che i carciopi te stanno complimenti. Bravo. Vai, addita di nuovo. Ma, ma era proprio mi scalcolato, brother. Meno male. Morto, mortissimo, mortissimo, morto. Dai, no. Peccato. Allora, abbiamo un tizio di fronte qua. E vabbè, 3, 4, 5, 6 dall'altro lato. Ok. Ua, non l'avevo proprio visto. Mi si è attivato il cervello per sbaglio e ha sparato. Doppio 43 però non si può vedere, eh. Ma cosa? No, brother, mi devi fare entrare perché questo mo' mi viene a prendere. Non l'ho visto neanche entrare. Perché con quest'arma poi? Sbeffeggiarmi per caso era il tuo obiettivo. Ma... Non mi costruisce i muri, ragazzi. Questa cosa è odiosa. Bravo, complimenti. No, perché? Mi hanno massacrato. Mi hanno levato 60. Stanno inseguendo un tizio che sta lì. Ciao, bro. Ma leave me alone, bro. Get off me. Get off me, bro. Tanto ho il vantaggio tattico, ma così grande, no? Sta un altro là e uno che ha modificato lì. Evitiamoli, evitiamoli. Il mio obiettivo principale è portarmi il game a casa con 7 kill, anche se non facessi altre kill. Ma Dio, santissimo, ma guarda un po' sto succio, io non ci credo. Un altro giorno nell'arena di Fortnite! Politico, politico. L'ho caduto alle mie stesse strutture, però è ridicolo. Rip, GG. Voglio andare ad espire, è un azzardo. Un azzardo, potrebbe darci 20 punti, però... Ma magari siamo fortunati, che dire. Qualche cura. Vodo. Vodo tantissimo. Ok. Via. Devo andarmene perché tengo il boss che mi sta girando in tondo. Wow, ok. Andata bene, andata bene. Smirata. Ottimo. Devo dargli tregua, non devo dargli tregua, non devo dargli tregua. Bru, però la safe. La safe. Basta, la safe. Fammi andare. Dammi sto B90. Apollo. Ehi, c'è qua. Non ti permette di andartene, mi serve la tua carne. Scusatemi ragazzi, mi scuso con tutti gli animalisti. Ragazzi, io salgo solo per prendermi la posizione di vantaggio. Poi, mi credete, non vi tocco. Dio santo! Ma mi ha zippato con una freccia nello sticco! Ma come hai usato? Usurpare il mio corpo in questa maniera! Scusatemi. No, no, no. No, 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 no. Sali. Grazie. Ok. Lo faccio spaventare. Vai, entra. Eh, no, 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 no. Mi perdo la kill però così. Mi interessa. È sto tipo, esatto. Mamma mia, non è teo! No, ne tengo un altro sotto. Basta! Non mi sparate. Siamo in tre. Non mi stanno guardando, non mi stanno guardando. Tutti zitti. Tutti zitti. Fortuna Gamer, signori muti! Stacce nella tempesta! Per gli OG, direbbe Fortuna. Stacce! Vai, vai, brother, vai. Vai, vai, che è 9 di vita, vai. Vai, vai, vai. Fantastico! La definirei magia. La definirei a tutti gli effetti magia. Questa è pura magia. Questo è Harry Potter. Questo, tutto, tutto. Ecco, prego, prego. Questo è drago. Palesemente drago, questo. Va, buia, fa. Vai, vai, vai. Vai, faitiamo. Faitiamo, vai. Come si deve però? No come un pipone. No come un pipone. No come un pipone. Faitami in faccia. Non so tanto come entrare nella box. Cavolo, pure qua mi è andata bene. Il pro player avversario fa paura. Quello sempre, quello fa sempre paura. Però questi tipi di pro player si possono tranquillamente eliminare così. Esagerano, semplicemente editano quando non c'è la necessità. Bell, brother. Bell. Questo è un problema, è un fucile a pompa migliore del mio. Ehi, a voglia, come no? Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, dove? 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 Non ce l'ho in testa? Non ce l'ho in testa? Mi piace. Questa era la pro player. Quelle due strutture le ho viste di quei tizi che stavano fightando. E mi farebbe piacere andare. Però, questo tizio stava scappando da quei due. Quindi dopo se lo vengono a prendere, se lo fighto, oppure... Boh, chi lo sa. Noi è arrivato... Ah, 49. Ok. Se gli fosse arrivato un solo proiettile più, non mi sarebbe dispiaciuto. Ah, ma lo stanno fightando. Devo scendere, devo scendere. Sono troppo in alto. Via. No. No. Mamma mia, questo mi stava distruggendo. Velocemente mi devo curare e devo correre via. Narcos? Please, ma... Nerfate Narcos! Nerfatelo! Ti prego, Narcos, nerfati! Oh, cavolo. Madonna, Narcos! Narcos! Grazie mille per l'abbonamento e per le 5 sub. Scusami, Narcos, ma mi hai destabilizzato! Attimo solo, ragazzi. Vorrei cercare di accapararmi le prime kill in modo da rientrare almeno con i punti dell'atterraggio. Ok. Velocemente apriamoci la sua roba. Lasciamo questo, rientriamo. Ok, doppia. C'è nessun altro? Sicuri? No, c'è. Godo. Morto! No, non ancora. Non ancora, a breve. Uh! Questi peperoncini mi hanno molto salvato. Sta molto più di una singola persona in giro. Ci sono, raga, 3-4, tipo. No, cavolo! Quattro di vita! Dai, boys! Devo stare calmo. Però questa non me la meritavo. Però questa non me la meritavo. Lama. Vabbè, vabbè, vediamo se riascora a prendere la chest in fretta. Godo. Non mi riusciva un fight del genere da tempo. Gli ho levato a 48 a quel tipo. In fretta, in fretta, in fretta. Grazie. Se mi avesse eliminato nella box, mentre io avevo il fucile a ripetizione, quittavo. Ok. Ma ciò così, torniamo un attimo all'esiva da farmare qualche altra componente. Vabbè? Ah, mi ha mirato palesemente in testa per farmi un headshot. Questo tizio dentro ha toccato... ...una pozza grana. GG. E' un po' godo. Allora, boys. Devo essere molto sincero. Anzi, voglio essere molto sincero con voi. L'ultima volta che ho toccato Fortnite, credo sia stato un buon 6-7 giorni fa. Diciamo che questa cosa del mio sinareno, la fine mi è sfuggita di mano. E siamo arrivati quasi ormai a un mese e mezzo. Il fatto è che non ci ho giocato tanto, cioè almeno non quanto mi aspettassi. Qualcuno c'era nella zona più interna. Vabbè, un po' di legno e poi ci cominciamo ad avvicinare, dai. Oddio, ma hanno remesso il tattico. Ma non me ne ero manca accorto, brother. Sarei molto tentato di giocarci un po', anche se in arena. Forse potrebbe essere non la cosa più intelligente da fare. Vabbò, shawl. Vabbè, ok. Che fa ragazzi? Voi direte, è forte, ma io conosco youtubers e streamer che in una giornata sono passati in Lega dei Campioni. Io ho giocato al fine molto poco, vi parlo di forse due ore a settimana nell'ultimo periodo. E lo facevo principalmente proprio per registrare. Quindi è normale, se componete tutte quelle ore che io ho messo nel giro di un mese e mezzo, che saranno, non lo so, 10-12, e mettete una persona veramente forte, è normale che vi raggiungerà Lega dei Campioni, specialmente perché è in allenamento. Bruderissimo! Uh, bruderissimo, fai male, cavolo. Infantry Rifle di nuovo! Infantry, scusatemi, ma sono impazziti! Ah, hanno messo tutta sta roba oggi vecchia, fighissimo! Ok, raga, io tutta sta zona la vedo piuttosto libera da nemici. Mi fa piuttosto strano, ripeto, però... Uh, madonna! Vabbè, 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 vabbè. Perché io ho il sesto senso, boys? Perché? Perché io ho il sesto senso? A me pareva troppo strange, infatti, pareva veramente troppo strange. Però è scarso, sto tipo. Mi darà tutto il tempo di curarmi, serio, va bene. Bella, bruder, complimenti, clappiamo un attimo. Cappiamoci tutto il suo armamentario, perché questo teneva di tutto. Stanno fightandosi, sì, stanno costruendo davanti ai miei occhi, ottimo. Lo faccio cadere? Oh, serio? Mi piace, GG. Oltre 250 metri, è normale, l'ho fatto cadere per sbaglio, poverino. Dai, muori! Devo assolutamente uscire. Woo! Fantastico, brother, grazie. GG. Cioè, in realtà mi sono distratto io, quindi. Shish, boys. Cavolo, pensavo di trovare qualcosa sul tetto, invece. Vabbè, ok. Vorrei dire che scenderò. Hello, brother! Bella, lipperoni, brother. Fa niente, dai. Woo, ok. Woo, bella questa kill. Carina. Ok, shish, man. Questo è veramente un shish serio. Oh, ok. Perché ho giocato così male, brother? Ok. Anche in questo caso mi è andata piuttosto bene. Chi non risica, non rosica. Però, per i miei costi, io risico un po' troppo. Non mi ha ancora visto. Ora credo mi abbia visto. Ok, 36, 54. Dovrebbe essere un buon 90. E, palesemente, questo si cura dalla testa e i piedi. Bello. Non so io, col mio ping, come gli sia entrato. Però va bene. Non credo che farò ulteriori domande. Sbagliato. Morto. Malesemente. Cavolo, no! Pensavo di avere la vitraglietta. Non ci credo. Eh, non posso prendere la cesta. Mi sa. Mi sa che devo scendere. Ok. Ok. Dammi subito la tua arma. Perfetto. C'è un altro sotto, raga. Che non so da dove stia salendo. Nel frattempo, però, stavo fightando anche con un'altra persona. Esce proprio. Ok. Dai, broderiglio. Tanto lo sai che stavo qua. Su. Non lose time, man. Godo. Muto. E ti devo provare a grappare per forza. Ma provi per forza, broder. Dai! Mamma mia! Questi sono gli svantaggi di giocare con il tac. Ah, 4 pinapunti! Non ci avevo mai fatto caso. GG! Dai, vediamo sto game come ci finisce. Spero bene. Ah, che cavolo! Vabbè, guys. GG, dai. Va bene così per oggi. Ok, ragazzi. Quindi è andata. In questo mese abbiamo raggiunto i 4060 punti. Molti di voi potevano aspettarsi i 6000 punti. Non li ho fatti, ragazzi. E mi sono voluto fermare a 4000. Io so che c'è gente che in una singola giornata riesce anche a raggiungere i 6000 punti. Però, ragazzi, fondamentalmente a me non interessa. Io gioco esclusivamente per divertirmi e non ho intenzione di diventare un competitive player di Fortnite, almeno nell'immediato futuro. È figo fare queste sfide e questo mi diverte, però provare davvero a fare un torneo in maniera seria non lo trovo sulla mia wave. Sta di fatto, però, 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 che se questo video raggiunge i 2000 like, io proverò a raggiungere i 6000 punti in arena per entrare così nella Lega dei Campioni. E vi sto anche graziando perché sono gli stessi like che ho chiesto per il mese in arena. Quindi, insomma, vorrei dire, anche questo video probabilmente mi prenderà due mesi completi. Comunque, ragazzi, fare questo viaggio con voi è stato veramente fichissimo. Vi chiedo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare assolutamente la campanellina. E niente, lasciate il like per il prossimo video e noi ci becchiamo alla prossima.